Da secoli questo gioco è sempre stato una mia passione che purtroppo fin'oggi non ho mai scoperto se potevo trovarmi E ora ci sederemo belli nutritivi Ma qua mi fanno saltare in aria, buon cavolo Allora, adesso la finiamo E allora, e allora, e allora Oggi siamo in un nuovissimo video, proprio oggi particolare Perché oggi, signori, sapete cosa facciamo? Oggi ci cerchiamo sul rinomato genio del web È praticamente un gioco creato, non so quando, forse nel 2014 Praticamente lui, questo gioco, ti pone delle domande E noi dobbiamo, cioè noi teniamo in mente un personaggio E lui tramite delle domande che ci fa, facendo delle sue ricerche su internet Dovrebbe darci delle risposte Oggi ci cercheremo il nostro nome di YouTube E proveremo a dare le nostre informazioni per cercare di trovarci Cioè, è la cosa più spettacolare del mondo Ho sempre cercato la gente più famosa come Favij, Stepney, tutti i mails Così ma credo che anche molti di voi avranno fatto le stesse cose O gente comunque VIP che a voi piace tanto seguire Quindi, ora passiamo subito nel cellulare Perché purtroppo siamo solo qui Speriamo che internet prenda Ok, signori, eccoci qui Akinator La primissima domanda è Il tuo personaggio è diventato famoso grazie YouTube? Beh, famoso Io metto sì, però Non è che... Non siamo ancora riusciti a fare molto Il tuo personaggio è un canale YouTube di videogiochi? Sì, sì Ce l'abbiamo di videogiochi Il tuo personaggio... No Il tuo personaggio è famoso grazie a Minecraft? No A che fare con Favij? A parte l'intervista quella lì di tempo fa, no però Sì, sono minorenne È un capitano? No Ha recitato in una Suicide Squad? Non so neanche cosa vuol dire Ha a che fare con dei Shing Non so cosa sono Il tuo personaggio ha girato un video con la sorella? Non ce l'ho Il tuo personaggio... Vabbè, ti conosci Sono io Facciamo di no Il tuo personaggio ha a che fare con Fortnite? Sì Parla italiano... Teoricamente sì, parlo italiano Teoricamente sì Il tuo personaggio porta gli occhiali? Sì, li porto Il tuo personaggio ha i capelli colorati? No Il tuo personaggio ha la barba bianca? Ce ne ho un po' ma non è che è bianca No Il tuo personaggio è originario della campania? No Il tuo personaggio fa video con la sua fidanzata? No Il tuo personaggio ha a che fare con un prete? No Il tuo personaggio è un bambino Non sono un bambino Non è femmina? Il tuo personaggio è che... Probabilmente No Nessun venezuelo Il tuo personaggio ha cantato Cray Baby? No Il tuo personaggio è ossessionato da una donna? No Fai video per i WGF? No Il tuo personaggio pratica equitazione? Cos'è? Quello con i cavalli? No Il tuo personaggio ha raggiunto? No 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 Sì Origini sì Vivo in Lombardia E... Non sono del sud Italia però Origini quindi non lo so Vabbè metto di no Ti conosci? Eh ma sono io Metto di no Non sono noto a Palermo Ho il supporto a un creatore Non fa parte di quelli popolari Come no? Scarica su senza animi Sei pronto? No 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 Che cosa... Oh Non esisto Regà riproviamo subito Prima tentativa è andato Vediamo quanto tempo... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Non gioca a calcio Regà non ci troviamo Mi dispiace Vuol dire che Akinator è povero È povero di conoscenza Strano Eppure mi avevano detto che potevo cercarmi Comunque regà Se siamo un po' nutritivi Forse un domani Quando mi aiuterete un po' di più Praticamente magari se questo video raggiunge i 100 like Possiamo anche trovarci Comunque mi hanno detto che Sì qualcuno l'ha trovato Ma ci credo Però Non so perché regà Non ci siamo riusciti a trovare Eh no è però Eh no è no Eh no Allora Adesso la finiamo Chi è? È solo un gioco Akinator Eh basta Sto schifo Veramente Sto schifo È che lo gioca Akinator Non voglio non capire niente qui Stai signori È che lo Akinator Mo cerca a te Vediamo se ti trovo Un po' di Maldicola Passeggero E allora Non so cosa dirvi Pensavo che potevo trovarmi Abbiamo fatto quattro Quanti Quattro Tre quattro prove Non ci siamo trovati Adesso basta Adesso basta Adesso basta Ma che cosa Ma che senso? Ma che senso? E basta! Bussano da tutte le parti! Oh, ma che volete? Sì, ma qua mi fanno saltare in aria, porca droga! Sto schifando! Vabbè! Io vi saluto, raga! Peccato, cioè veramente! Mi hanno detto che mi potevo trovare, invece non mi sono trovato! Vabbè, vi saluto, vi lascio i due video qui! Instagram in descrizione per qualsiasi cosa, signori! E alla prossima un po' di mal di gola nutritivo! E ci vediamo, rena! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!